let's go butchers come adesso sono già pronto cuffie innestate pc già pronto per streamare finalmente è tornato è tutto attivo e posso fare quello che voglio quindi mi sono scordato quello che dovevo dire no scherzo devo fare lo streaming oggi voglio streamare ho comprato più o meno 40 e passa tre di ori non ricordo quanti no e voglio usarli tutti oggi pomeriggio in una strecca di assalti che parte da ora dopo pranzo e finisce verso le 7 quando uscirà il nuovo video il nuovo video riguardante le spade esotiche come vi ho detto vi spiegherò ogni spade esotica a cosa serve il loro utilizzo quale è più forte da prendere in un determinato contesto e non perché anche se tutte si assomigliano la loro abilità speciale quello che possono fare le rendono magari utili in determinati aspetti in determinate tipologie di gioco bvp vwe eccetera eccetera quindi voglio spiegarvi questa cosa e quale prendere se magari non l'avete ancora preso se magari dovete prendere un'altra spada esotica con un altro bg io vi saluto butchers ci becchiamo le streaming su twitch.tv slash powertv con il terreno al posto della e let's go slash powertv con il terreno al posto della e let's go e let's go